Guarda, ti sto per sdoganare il buonasera a una sega, guarda, ti sto per sdoganare il buonasera a una sega. Atalanta-Fiorentina 1-0 per i bergamaschi. Molti se lo aspettavano di fare un passo falso a Bergamo, di perde a Bergamo. Io francamente pensavo fosse una Fiorentina diversa. Ieri, nel giorno avanti, neanche l'ho detta questa cosa, perché ero convinto che la Fiorentina, con questi dieci giorni di riposo, con questi dieci giorni di clima distensivo, si fosse in un qual modo rinvigorita, ok? Anche la presenza del Presidente stesso l'avesse fatta rinvigorire un pochino. È vero che mancavano certi nazionali, ci sono alcuni che non sono proprio entrati come Nico González, però ti alla fine hai fatto anche entrare tutti i giocatori d'attacco, quindi avevi icone in campo, avevi qua me, avevi Cabral, avevi Jovic, il risultato non è cambiato, ragazzi. Il tiro in porta non ci sono, qua me è oggi, se devo dire, forse l'unico sugli scudi, l'unico che almeno ci ha provato, l'unico che combatte. Gli altri, gli altri non lo so, gli altri mi sembrava che cercassero di limitare l'Atalanta, o comunque cercassero di chi appanne meno possibile, proprio per dirla come bisognerebbe dirla. Chi appanne meno possibile, ok? Cercare di non pigliare l'imbarcata dall'Atalanta, cosa che si è rischiata in due o tre occasioni, bene, anzi benino la difesa, perché poi il gol, il primo gol, è anche un'azione fortuita di Di Muriel, in mezzo a Venuti e Quarta, che poi gli è rimbalzata addosso, Quarta tra l'altro ha fatto anche una buona partita, però Lockman, che io pensavo fosse una marca d'orologi, e ora si viene anche al caso Atalanta, comunque chi lo piglia, Icone e Igor, chi lo piglia, Biraghi, fatto sta che questo era solo in mezzo alla regola, e non è la prima volta, non è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi mi viene da dire, ma questa difesa, lasciamo stare, l'attacco più sterile di così, ripeto, l'unico che ci provava è Kwame, ogni tanto tu hai provato anche a mettere il nasino lì fuori, dall'altra parte sulla destra c'hai quel bidonè, che mamma mia, lasciamo stare, riportiamolo in Francia, rimandiamolo a chi ce l'ha mandato, perché è buono solo per i meme, praticamente, e il resto poca roba, Buonaventura forse è l'unico che mi ha veramente convinto, Mandragora veramente veramente poco, gli esterni meglio Terzic di Venuti, molti diranno ci vuoi poco, però io francamente dico meglio Terzic di Venuti, se è rischiato due o tre volte l'imbarcata con quel mele, ma anche lì, ma io mando li pigliano vesti, ma dove li pigliano? E mi viene da dire, ma ti rendi conto che l'Atalanta va a prendere i signor nessuno sconosciuti, ai più, ai tifosi medi, e poi gli addetti a lavori, per l'amor di Dio, magari li conoscono e come, e li fanno frullare, e noi invece tutte le volte si va a prendere quello che fa 30 gol nel campionato svizzero, e qui un tocco, un pallone nemmeno per sbaglio, o il fenomeno transalpino che qui è limitato. Io mi verrendo a dire, veramente, mi guarda, cito un mio amico, Gabriele Mastropieto, ma di chi l'è la colpa? Mi verrebbe da di questo. No ragazzi, non è tanto aver perso con l'Atalanta, perché l'Atalanta sta facendo un campionato della Madonna, e quindi è chiaro che è prima, è chiaro che è una squadra difficilmente battibile. Ma è proprio il discorso di cercare di limitare i danni che mi dà fastidio. Andar lì con una mentalità provinciale, con una mentalità di chissà già di essere inferiore, e cerca di non chiappare le imbarcate. È questo che mi dà noia. È questo che mi dà noia. Adesso sto Nico Gonzalez, vediamo che c'ha tallonite, non tallonite, però poi viene convocato uguale al nazionale, poi ritorna rirotto un'altra volta, è il 60-70% dell'attacco, e lui non segna neanche lui, tra l'altro. Però almeno ti dà, è pericoloso. Sottil mancava anche lui, ma anche l'Atalanta gli mancava un bordello di gente. Muriel, per chi pensa che Muriel a gennaio possa venire a Firenze, io l'ho scritto anche su Instagram, c'ha la stessa voglia lui di venire a Firenze, come io di tornare a scuola. Quindi ragazzi, levatevelo dalla capoccia, perché lui non torna. A meno che Gasperi non lo metta fuori rosa, ma oggi è stata la conferma del fatto che non lo metterà mai fuori rosa. Quindi vai tranquillo, che Muriel te lo sei giocato. Vabbè ragazzi, che dire, altra sconfitta Mara, altra sconfitta, ennesima sconfitta, mercoledì contro l'Erz, anzi giovedì contro l'Erz, è una partita da non sbagliare, perché se tu sbagli anche quella, tu sei doppiamente popone, doppiamente fava, perché tu esci veramente da una competizione che ti avevano detto, oh dai, passate, questa è tutta vostra, per andare avanti, e noi siamo riusciti a pareggiarlo in riga, e a chiapparne tre, in maniera disastrosa, dall'Istanbul, vediamo a che fare con questi scozzesi dell'Erz, e mi viene di dire, guardiamo avanti, continuiamo a passettini, poi ci sarà la Lazio, ci fanno un bagiulo così, che dire, siamo una squadra per adesso poca roba, poca roba, ma soprattutto che non ha né capo né code, questo mi fa paura, vabbè, fiducia incondizionata alla squadra, all'italiano e a tutti, almeno per adesso, non si può fare altro, commentate la vostra visione della partita, Forza Viola e JN!